Grazie, grazie a tutti e voglio dire che la nostra vita è in mano a noi per quanto sia possibile e come diceva il grande Felice Musazzi, una risata fa sicuramente bene e meno male di una scatola di supposte quindi supportiamoci e supportiamoci, una buona serata Questa è la mia città, Legnano Forse un giorno qualcuno dirà, c'era una volta la compagnia di Alettale Legnanese sperando sempre che questo giorno sia molto lontano come è lontano, quel giorno che inizia per noi questa meravigliosa storia Bazzà scrisse, se vuoi parlare del mondo parla del tuo paese Un poeta Legnanese, Ernesto Parini, scrisse per noi una canzone che è diventata poi l'inno di Legnano E questo è l'erotorio dove 35 anni fa, ritornato dalla Russia davvero prigioniero incominciai la mia attività di filodramatica Questo è il teatro dove iniziò la mia carriera, il teatro Angelicum E questo è il palcoscenico dove per un veto tipicamente ecclesiastico era assolutamente proibito portare, recitare con le donne Perciò, a differenza di Pierandetto, sei personaggi in cerca di autore io autori ho dovuto cercare i miei personaggi Per rappresentare il primo spettacolo e un dì nacque Legnarello Poi l'avorecco che diventerà poi l'amaviglia Renato Lombardi, l'Enrichetta Finceroni, la cattiva Carletto Eterini, il Giovanni, la vittima Giuseppe Parini, la Celestina Pirotta Luigi Zoni, la Maria di Baliga Ciro Vassalese, il cantante della compagnia Avevano 30 anni meno Inventata la famiglia Colombo Crea questi personaggi grotteschi, irreali, paradossali Mettendoli così nei cortili I cortili, prima di tutto, era il cortile Il cortile con le sue gioie, i suoi dolori Le sue storie, i funerali, i battesimi, gli sposalizi e i miracoli Tieni che adesso ti faccio venire con Elena Maria Stuala Maria Stuala Ovvero, la regina tradita Dramma da Piafio e Luce Fai la regina La regina Isabetta Questo è il tuo amico Questo è la tua corte E questo è lo centro del potere di Inghilterra Adesso io faccio il soldato Questa è la lancia E' una lancia È una lancia La lancia La lancia La lancia Lo prendo per il manico E siamo qui nella sala Una lancia Una lancia Salve la lancia E di quali sul centro della batalla si sente che è pul, pul, pul... chi è? faccio di aver faccio, vai a vedere chi è? E la Maria Scuardo, quella bastarda, l'ha scritto. Maria! E il nostro acqua. Isabetta, Isabetta, dammi il mio legno, no, 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 il tuo cetro fascino, e io ti manderò la morte, e io ti manderò la morte, cattiva, quinto atto, in bicicletta, salivo il patibolo e mettevo la testa sul cetro, sul cetro, capì sul cetro, sul cetro capì, ma mio capì, che ti capì, che ti capì niente, adesso, fai il boia di lontano, oh che spaventano, e la peretta diventa l'accetta, io canterò le mie ultime parole, al mio terzo, al mio infatti della testa, o come la piange, ecco, devo morire così giovine, devo lasciare i miei figli, noi autori raccontiamo e interpretiamo sogni, forse è per questo che la gente si vuole bene, perché è bello raccontare il passato e ci fa vivere il presente, e con i ricordi si può affrontare il futuro. I lenanesi, 33 anni di storia, di teatro, questa forse è una natura che regge imparita all'avorio degli anni, amata dal pubblico sinalfabetismo, attori e operai lavorano ogni giorno e di sera fanno teatro, cioè i pendolari nel teatro. Fu così che una sera al teatro minorese di Monza, sono stati scoperti dal comandatore Bernardo Papa, Luciano Ramo e Guido Bossi, ci portarono al teatro odio, incosci, inconsapevoli, incoscienti forse, siamo arrivati a Milano sotto il Duomo, e esattamente il 14 giugno 1950 si apriva il sitario sulla rivista Falabatel Casensu Tutti. Ho visto oggi, è una plana della tenda, anche ora, subito no, triggere doloramente per risi, lingua si ha fritto sfacciato perché è una lingua che la fai al feghe l'hanno rispetto per la sua mamma che che il po' disgraziato l'hanno scusati almeno cambia l'articolo almeno cambia l'articolo su per il nuovo che canto c'è una pianta se la fa? la fa? è una pianta non è una fà oltre quanto? e quattro oltre quattro oltre un lusor mes le lasciati gli uomini a straffia e a sbattiale con la tenudia d'omen che gira il dino intero oltre 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 un'ora di notte terminale il campo mi vorrei bisogna terminare la ria che vuoi? che vuoi? che vuoi? che vuoi? che vuoi? quattro oltre 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 oltre? che vuoi? Hanno tempo che si fa spuignato... Oooo... Atenito? Sono un volo da lì in tocca... ...se bocchì gente... ...un ammò da capire l'adamore... ...se vede... ...se, tre... ...guananta... ...e... ...dui... Qua, un cuoio è qua, se mi ricetta lo prende basso lo trovo, ma dico, fugga la faccia la scopa elettrica, rinnovamento degli impianti, ho già fatto 5 km, prima sua strada, tu non posso fare i modi, la faccia la scopa elettrica, ma perchè fai guarda la salontella, perchè io vado sul classico, ma che fa quella, la scu, il nido, quella, e va. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? «Mamma, è vent'anni che è morto!» «Vent'anni è?» «Piore di vino?» «Passo il vino a capi in quel cosco e l'occhi?» «Ma che figlio la copà?» «Passo il vino!» «I suoi bambini!» «Quoi sono cresci?» «Mamma, così!» «Sai sempre io!» «I... i corini!» «I... i cignotti!» «I cignotti!» «Anche io ce l'ho visto lì, lascio l'ho fatto!» «Lascio il vino a me, io l'ho visto!» «Satemi la casa!» «L'acusso la fermezza all'ordinare!» «Per noi l'ordinare, la scienza è straordinare!» «Per la buste di ebra che si scoliva bene!» «Ca mi siamo fatti smilare lì!» «Ca non fa bene, non fa l'arattoria!» «Scusi, bella!» «L'acra!» «Cerme!» «Colombo!» «Grella!» «Gerda!» «Gerda!» «La gatta!» «Come leggera, signore l'intedà!» «Ci sai, il d'aventura ma roba di l'intedà!» «T'a miso un nuovo e ti maco nella mia ora!» «Dà, io ti trovo l'una!» «Poi, il d'aventura!» «L'altro è molto lì!» «Duecentocinquanta mila!» «Duecentocinquanta mila!» «Duecentocinquanta mila lira!» «Una volta con duecentocinquanta mila lira che facevi sui palazzi!» «Adesso!» «Il non caseta con buona cortigenica!» «Passevi!» «L'altro è tutto il Baile gattia!» « passions Sandra!» Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. che è un'altra. e a tutti. a tutti. e tu. e a tutti. 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 e tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e 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 tutti. che. 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 e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. che. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. credo. e tutti. e tutti. e tutti. tutti. che. tutti. e tutti. 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 . tutti. 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 . 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 tutti.